Il VIP nasce in una situazione molto particolare perché avevamo appena finito Western Soda, nel senso che era stato ultimato da qualche mese e si sentiva la necessità di dover rifare un secondo film. Perché? Perché ormai esisteva un'equipe che si era specializzata di animatori, di disegnatori, di scenografi ed era un peccato buttare via tutta questa esperienza per tornare a fare la pubblicità che oltretutto occupava meno gente. L'idea di fare un nuovo film era quasi un obbligo, quasi un must. A rinforzare questa idea sono arrivati degli americani che interessati a Western Soda volevano coprodurre il secondo film. E quindi siamo partiti già con l'appoggio degli americani e con l'idea di dover fare un film sfruttando l'esperienza precedente. L'idea di VIP nasce innanzitutto non dai superuomini come molti credono e come dice il titolo, è stato un po' deformato e deviato dall'intervento americano, il super VIP, il muscolone diciamo. Mini VIP nasce come caricatura dell'uomo mascherato. Cioè l'uomo mascherato di Ray Moore era un personaggio che io leggevo da ragazzino, che mi colpiva, mi piaceva, mi entusiasmava. E ricordo un particolare di questo uomo mascherato che poi si può rintracciare perfettamente nel film, in cui vediamo l'uomo mascherato che naviga in incognito sulle navi e quando sale su una nave è in incognito e ha un cappello, gli occhiali neri, un capotone col bavero alzato. Ecco, questa immagine particolare è proprio tipica del mini VIP perché nella sequenza in cui lui viaggia sulla nave ha appunto il cappottone, gli occhiali e il bavero alzato come l'uomo mascherato. Questo è il punto in cui si capisce meglio di tutto il punto di partenza del film e l'idea che ha generato tutta la storia. Poi però, come dicevo, c'è stato uno stravolgimento, cioè questi americani arrivano e incominciano a dire che il mini VIP è troppo piccolo, non è un super uomo, ci vorrebbe qualcosa di più forte e parla e discuti salta fuori il super VIP. Ovviamente il super VIP è un personaggio che non era stato previsto, ma che ha un po' sconvolto l'equilibrio del film, nel senso che creando due fratelli ha dovuto far nascere per forza di cose anche un'altra ragazza. Quindi il mini VIP aveva la sua ragazza che era Nervustrella e il super VIP doveva avere la sua ragazza che era Lisa. Quindi abbiamo cominciato a raddoppiare praticamente i personaggi e questi personaggi sono diventati quattro, però devo dire che hanno funzionato, hanno interagito molto bene tra loro e tutto sommato non posso lamentarmi di questo cambio che è avvenuto a metà percorso, quando già c'era la storia in atto e c'erano già delle scene complete. E lei, suo fratello? Sì. Bene, si accomodi pure. Mini VIP arriva in un periodo storico, diciamo così, particolarissimo. Diciamo che segue West & Soda e West & Soda è stato un film che è arrivato in Italia dopo qualcosa come 20 anni di silenzio totale nel campo del lungometraggio. Quindi arrivare con un lungometraggio oltretutto fatto in una maniera così, io dico infantile, perché noi effettivamente eravamo dei pazzi ad affrontare un lungometraggio con la conoscenza e con l'abilità che avevamo, perché le animazioni sono molto semplici. La scenografia è molto moderna e quindi non è facile raccontare una storia di un'ora e mezza con una scenografia che non sia disneyana, molto ricca e molto morbida. Noi abbiamo provato e quindi è stata una sfida. Ricordo un particolare che si vede nel film. Abbiamo voluto per certe sequenze colorare il personaggio, non in maniera piatta come si faceva normalmente, quindi il colore resta sempre fluido, uguale, piatto e diciamo non muta, ma spugnandolo. Quindi abbiamo spugnato il colore, per cui scena dopo scena questo colore fibrilla, si muove e dà una sensazione che ricordo ha fatto inorridire gli americani, no, 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 la gente non può vedere cose di questo genere, bisogna rifarlo con i colori piatti, infatti poi abbiamo smesso perché stava diventando un rischio. Vorremmo che ci desse una piccola dimostrazione della sua famosa invulnerabilità, e cioè che ingoiasse questo candelotto di dinamite e se lo facesse scoppiare nello stomaco. Tornando all'uscita di Minivi, diciamo che esce in un periodo in cui la gente conosceva praticamente solo Walt Disney. Quindi arrivare con un film del genere era un grandissimo rischio. Io ricordo che con il mio primo lungometraggio sono rimasto fuori dal cinema ad aspettare per ore e ore perché non credevo che qualcuno sarebbe entrato e avesse pagato il biglietto, perché mi sembrava impossibile. Però è stato accolto bene, soprattutto devo dire dalla critica. Perché? Perché effettivamente tutto quello che manca dal punto di vista spettacolare, cioè la ricchezza di scenografia, l'animazione morbida, insomma un certo tipo di movimenti di macchine, di fluidità che c'era nei film di Walt Disney e a noi mancava, è stato controbilanciato da una ricerca molto accurata delle gag e del contenuto del film. Cioè si cercava di raccontare qualcosa di più della solita storia. Quando ho iniziato? Cosa? Quello che vuole. Lo dica in ordine cronologico. Sia il più congiso possibile. Nel mio caso mi hanno anche accusato di avere sputato nel piatto in cui mangiavo, perché io in questo film ho fatto una caricatura molto forte della pubblicità, del lavaggio del cervello. I famosi missili nel cervello, che poi bene o male abbiamo un po' tutti anche oggi, sono rappresentati dalla pubblicità che ci inculca determinate idee. Quindi era un'idea abbastanza forte che io potevo fare per un solo motivo, conoscevo bene la pubblicità. Avendo lavorato fino a quel periodo quasi sempre con la pubblicità, capivo i meccanismi, mi divertiva vedere un po' dietro le quinte della pubblicità e quindi non l'ho fatto per volere distruggere la pubblicità, ma perché normalmente se uno racconta una storia parla di qualcosa che conosce bene. Io conoscevo bene la pubblicità e ovviamente ho sviluppato un film su questo argomento. Compra dai pibetti tu lo sai, 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 che se vai una volta tornerai, dai, dai. Dagli pure tutto quel che hai, 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 senza un soldo ma felice tu sarai. Compra dai pibetti perché tu, 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 comprare l'altra gente non vuoi più, più, più. I suoi prezzi andranno sempre giù, 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 e dagli altri invece andranno sempre su. Una cosa che forse può essere un po' incomprensibile per il pubblico è il riferimento ai caroselli. Cioè in questo film chiaramente c'è una canzone molto bella di Godi cantata dal coro di Noro Orlandi che praticamente prende in giro degli slogan e delle frasi fatte che circolavano all'epoca che erano legate a Carosello. Ora, un giovane che vede questo film oggi può anche non capire determinati riferimenti perché non li ha presenti, però all'epoca erano molto funzionali e molto divertenti. E questo è il punto in cui più di tutti viene a galla la pubblicità, si nota la parodia e diventa un tutt'uno, lo spettacolo e la presa in giro della pubblicità. 2 gocci azzurre nel bianco stanco c'è una gran cuoca nel tuo motore ma il grano duro la va più bianco mettiamo tigre nel doppio prono 2 gocci azzurre nel bianco stanco c'è una gran cuoca nel tuo motore